Fabio Testi disperato, ecco con quanto vivo di pensione. Tra gli attori più apprezzati del cinema italiano rientra sicuramente Fabio Testi. L'uomo ha iniziato questa carriera, tralasciando il suo ruolo di stuntman. Con il tempo è riuscito a farsi ammirare, ed è per questo che ha accantonato i suoi studi da geometra, per buttarsi nell'ambito della recitazione. Se da giovane si è occupato per lo più di cinema, con il passare degli anni ha lavorato moltissimo anche per la televisione. Basti pensare alla recente partecipazione al Grande Fratello Vip, e in tutti i programmi che hanno contribuito a ridonargli la perduta notorietà. A quanto pare però, essere un attore amato e stimato non è sempre sufficiente, soprattutto quando ci si avvia verso la vecchiaia. E, proprio per questa ragione che Fabio Testi ha rilasciato un'intervista al Corriere della Sera, parlando delle difficoltà economiche legate al suo trattamento pensionistico, piuttosto contenuto. L'interprete italiano, avrebbe dichiarato di percepire una pensione molto bassa. Parliamo di una cifra che sfiora i 1.100 euro al mese. È proprio questa la ragione che ha portato l'uomo ad accettare molti programmi televisivi, che in un altro periodo, avrebbe sicuramente rifiutato. Attualmente 1.100 euro al mese sono davvero troppo pochi per vivere una vita dignitosa. Per questo motivo Fabio Testi ha deciso di rivalutare alcune sue scelte, molte delle quali sono in qualche modo legate alla sua professione. In passato l'attore ha rifiutato molte parti e diversi ruoli, in quanto questi non si sposavano alla sua personalità. Ora, trovandosi in un regime economico così ristretto, ha dovuto rivedere le sue priorità. Ecco dunque, perché partecipa con più frequenza a programmi, che invece avrebbe volentieri accantonato. Un esempio di tutto questo, riguarda la partecipazione dell'interprete italiano al grande fratello Vip. L'uomo è stato scelto come concorrente del reality nel 2020, ma ha dichiarato di aver accettato questa proposta solo per soldi. Questa scelta è ancora uno stile di vita per il grande interprete del piccolo schermo. Una volta avrebbe scelto di recitare solo in quei film che sentiva molto vicini alle sue corde. Ora è disposto ad interpretare qualsiasi ruolo. Fabio Testi ha poi concluso la sua intervista, dichiarando come si sia pentito in merito al rifiuto di Domenica Inn, diversi anni fa. All'epoca l'uomo aveva rifiutato la conduzione dello show di Rai 1, in quanto si reputava un attore, e non un conduttore. Adesso ha capito il grande sbaglio commesso, poiché Mara veniera saputo sposare alla perfezione questa possibilità, che la televisione di Stato ha deciso di concederle. Qual è la vostra opinione in merito all'entità delle pensioni italiane? Pensate che una persona possa essere disposta a tutto per far soldi? Oppure bisogna fare solo quello che ci permette di essere felici, anche se a discapito delle nostre tasche? A voi i commenti Se il video ti è piaciuto, metti mi piace, e iscriviti al canale, per ricevere gli aggiornamenti Grazie a tutti!